Abbiamo scoperto che qua dalle parti di Sesto San Giovanni ci abbiamo una tribù di havaiani ragazzi Li abbiamo invitati qua a venire con noi a fare festa questa serata dei single Ragazzi guardate che meraviglia cosa abbiamo qua questa sera Stanno arrivando delle havaiane Sono qua ragazzi Siamo in attesa ragazzi Ma guardate che roba ragazzi Sta arrivando Abbiamo una tribù di havaiane Guardate che meraviglia Bellissime sono Guarda qua Ma sono strane queste havaiane oggi Sono unisex come si dice Va benissimo Buon appetito che meraviglia Buon appetito che meraviglia Guardate abbiamo degli havaiani unisex come si può vedere Ma è uguale insomma Ola che meraviglia ragazzi questi havaiane Guarda il numero duro come è particolare Sono bellissime queste donne Donna barbuda Donna cartuda E vai Ehi Foto Anche un breve video Guarda la gamba La gamba la gamba Vai 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 Così Vai 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 Così Ehi Ehi Ma insomma trovare una tribù di havaiane a Milano E cosa trovare un'anghi un pagliaio ragazzi Ma noi ci siamo riusciti Gli uomini sono stupiti e le donne anche sono stupiti e ste reparte per questi tipi dello spettacolo Vai Angelo Che meraviglia Che roba ragazzi Ma gli facciamo ballare un val del romagnolo Io vengo dalla Romagna ragazzi Abbiamo dei ballerini di val che facciano ballare queste Havaiane Originali che vengono dalle isole Havaie Vabbè insomma Vabbè insomma Che vogliono ballare con le Havaiane Siete i migliori ragazzi Vandateci Vai Simplice Anche un nuovo Sotto E' più luce qua E' più luce qua E' una lì anche lì E' più luce qua 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 Guarda me E' più luce qua 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 Si è andata potente anche stasera eh. Anche stasera ho fatto un paio di parti. Eh ma dovrebbe fare così se hai fai giusticciato. Dai. Eh l'ordine di ritiro che c'è lì. Aspetta. Gli ultimi pellettini del coso non li leggi più? Eh come faccio? No se no li prendo. No no aspetta. Io mi vedo qui. Vai vai. Allora signori. Vediamo un altro. Diamo un messaggio per il 118 e il 117. 118. 118. 118. 118. 2,17. 2 addirittura. Vai. 2,17. 2,17. 2,17. 133 ragazzi numero 5 2 donne 5 eccolo qua 2 anni Everybody Summer 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 Everybody Summer 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 Tai Sura 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 Or Sura Sura Grazie a tutti.